Ciao, sono Ivo, sono uno studente, attore e doppiatore e amo portare il buon umore alle persone. Ti è mai capitato di camminare per le strade di Milano e trovare una lavatrice abbandonata? Ecco, quello è un RAE, ma non è il posto in cui penserai di trovarlo. La mia più grande passione è la recitazione, ma amo comunicare con le persone, quindi se c'è un'iniziativa che lascia un messaggio positivo, quella è di sicuro RAE Generation e io ci sono. Raccogliendo correttamente i RAE, le risorse possono essere riutilizzate in modo più efficiente, dando così una mano all'ambiente. E tu non lo puoi lasciare lì? Oh sì sì sì, non lo farà più, d'accordo? Vai su raccoltarai.it, capisci tutto ciò che devi capire in 25 secondi e poi ti unisce a noi. Grazie a tutti.